Il Morte del Fratello Giovanni Quindi, se io non andrò sempre fuggendo di gente in gente, mi vedrai seduto sulla tua pietra, o fratel mio, gemendo il fior dei tuoi gentili anni caduto. La Madre Orsol, suo di tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto, ma io, deluse a voi, le palme tendo, e se da lunga i miei tetti saluto, sento gli avversi numi e le secrete cure che al viver tuo furon tempesta, e prego anch'io nel tuo porto quiete. Questo, di tanta speme, oggi mi resta. Straniere genti, l'ossa mia rendete, allora, al petto della mia madre, mesta. Militare, col grado di primo tenente, il fratello del foscolo Giovanni Dionigi, si era ucciso di pugnale l'8 dicembre 1801, per sottrarsi al disonore di un processo per furto. Lo aveva denunziato un sottoispettore, che gli aveva dato in prestito una somma, prelevata dalla cassa di guerra, per far fronte ad un debito di gioco. Somma che Giovanni non aveva potuto restituire. Nel sonetto, che è del 1802, non c'è, ovviamente, alcun preciso riferimento al fatto suddetto. C'è, piuttosto, la voce mesta e dolente del poeta, che non giudica il gesto del povero suicida, ma contempla, attraverso la propria e l'altruia esperienza, le secrete cure che travagliano la vita. Il morto fratello ha raggiunto il porto sereno della quiete. Il poeta sa che solo lì, in quel porto, cesseranno anche per lui gli affanni e il brama di giungervi presto. Ma la figura della madre, che nella sua ieratica solennità è il personaggio dominante del sonetto, soffoca la voce di pacate rassegnata rivolta e serpeggia per tutto il componimento, sicché finisce per trionfare una delle illusioni foscoliane, quella degli affetti familiari, la carità di figlio. Ne deriva l'accettazione della vita, pur col dominante desiderio della morte, che si risolve nella disperata invocazione finale alle straniere genti, nella quale torna la figura della madre maesta.